Una gran bella vittoria quella dell'Incigione oggi contro una squadra di Franciacorta che fino all'ultimo vi ha dato filo da torcia. La Franciacorta è una buona squadra, è dimostrata anche oggi. Noi credo che siamo stati bravi a vincere una partita contro una formazione che ha qualche punto in meno in classifica per l'organico che ha. È una squadra che ci ha messo in difficoltà per la sua fisicità, per il reparto d'attacco che ha. Non scordiamoci che ha fatto 31 gol. Io sapevo che era una partita difficile, però penso che un po' che siano stati fortunati, un po' anche bravi, l'abbiamo portata a casa nella maniera giusta. Avete sbloccato il risultato con un calcio piazzato, un colpo di testa di un gigante e poi un raddoppio ancora sull'azione di calcio d'angolo. Comunque la squadra era molto aggressiva, la squadra avversaria, un pressing altissimo e una squadra molto corta con una difesa altissima. Quindi se ha fatto gol uno piccolo vale due, ha ballo sempre uno. Noi facciamo con quello che abbiamo. Oggi Barranca è stato bravo, credo che abbiamo fatto una bella pallina attiva invece. Loro è normale che una squadra avviene da una sconfitta dove ha preso cinque gol, cambio di allenatore. È normale che il Franciacorta veniva qua agguerrito e ha dimostrato sia una certa organizzazione che anche che è una buona squadra. Credo però che l'abbiamo vinta bene, anche se loro hanno avuto un'occasione o due che potevano fare gol anche loro, ma l'abbiamo avuta anche noi. Ha cambiato gli attaccanti nel finale per dare un maggiore spirito e maggior smalto anche alle offensive e ha cercato naturalmente il terzo gol che chiudeva definitivamente le sorti della partita. Avevo a disposizione Ferri dopo un po' e Ferri dalle caratteristiche che riesce a tenere sul pallone per struttura fisica. Quindi Bernasconi aveva già speso molto perché aveva fatto una gara dispendiosa, perché insomma sia lui che Barranca avevano speso molto anche andare a pressare gli altri. Allora ho lavorato in questo senso. Poi dopo le sostituzioni anche quella di Ayman alla fine che è un ragazzino che ha dei colpi. Infatti quando è entrato ha fatto bene, ha messo in mezzo la palla dove Falanelli ha tirato fuori. No vabbè, sono contento, sono contento perché, ripeto, vince col Franciacorta di oggi, secondo me non è facile. Una vittoria, quella esterna con il Calvin e soprattutto vi proietta in una parte alta della classifica in un finale di andata decisamente positivo per le vostre sorti. Sì, ma io come già detto altre volte non guardo la classifica, guardo il percorso che stiamo facendo con questi ragazzi dove sono contento. Dove se si fa la prestazione secondo me spesso si vince, poi si può anche, voglio dire, delle volte incontrare delle sconfitte o dei pareggi. Insomma, però è vero, è un abitorio importante, però noi dobbiamo guardare che ci abbiamo da migliorare. E secondo me questa squadra è talmente giovane che quando si è giovani c'è proprio lo spazio di miglioramento. Quindi io complimento ai ragazzi perché stanno facendo molto bene, però ci abbiamo ancora tanto da fare. L'impatto con il nuovo Martino che si è inserito nella vostra squadra da poche settimane? Vincenzo è un ragazzo che io conoscevo già, è un giocatore che a centrocampo ci sa stare. È normale che Vincenzo rispetto agli altri non ha ancora il minutaggio giusto. Oggi gli ho chiesto di giocare dall'inizio perché secondo me servivano delle caratteristiche di un certo tipo, anche se la sua condizione non è ancora ottimale, ma credo che abbia fatto un'ottima gara.